Abbiamo lanciato un'iniziativa di una petizione come Fiepet Confesercenti che è nata dalla Confesercenti Provinciale di Salerno a seguito di un'interlocuzione con la Confesercenti dell'Emilia Romagna e precisamente con quella di Bologna per far riaprire il settore maggiormente danneggiato in questo momento che è quello della ristorazione del food. E' veramente insostenibile questa situazione. Perché diciamo questo? Non lo diciamo perché non vogliamo ascoltare, non vogliamo fronteggiare o non vogliamo aiutare quelle che sono l'emergenza primaria e quindi l'emergenza sanitaria. Però se è vero che c'è stato un adeguamento da parte dei nostri esercenti e dei nostri imprenditori su quello che era il protocollo sanitario da seguire e se è vero che a pranzo sono stati aperti non vediamo perché la sera non si possa stare aperti e quindi dare ossigeno a questa categoria che è quella dei ristoratori legati al food e alla ristorazione. Noi chiediamo al governo attraverso la nostra rete nazionale è un'iniziativa che abbiamo lanciato sul change.org quindi invito tutti ad andare sulla pagina ufficiale della Confasorcenti Provinciale di Salerno di cliccare, di firmare la petizione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perché è un'iniziativa che nasce dal basso ma che comunque attraverso la rete nazionale porteremo all'attenzione delle istituzioni. Adesso basta. I pubblici esercizi sono stati veramente penalizzati.